Amici di Football is my life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono qua per parlare della top 11 della 23esima giornata di campionato di Serie A. Iniziamo subito. Allora, come modulo ho scelto il 3-4-3. Allora, partiamo dal portiere dove non c'è stato un portiere che ha fatto una gara stellare, nessuno ha fatto delle parate particolarmente spettacolari, però alla fine ho scelto di premiare Cragno del Cagliari, che ha giocato una buona partita e ha compiuto dei buoni interventi sull'1-0, sul 2-0 della sua squadra, permettendo ai sardi di poter portare a casa la vittoria contro la Spal. Non delle parate eccezionali, però comunque delle parate buone e importanti ai fini del risultato. Nella difesa 3 poi ho messo un altro giocatore del Cagliari, Castan, attento in fase difensiva e poi ho fornito un bellissimo assist di tacco per il gol di Sau. Come secondo centrale ho messo Mancini dell'Atalanta, Mancini dell'Atalanta autore del gol che ha permesso alla compagine bergamasca di battere il Chievo e dopo come terzo giocatore ho messo Alex Sandro, che torna nella top 11 dopo non so quanto tempo, uno dei protagonisti della bellissima vittoria della Juve contro il Sassuolo. Ha giocato un'ottima partita e ha segnato il gol del momentaneo 1-0, che possa essere l'inizio del riscatto di questa stagione finora deludente del terzino brasiliano. Vedremo. Poi centrocampo a 4 dove sulla fascia destra ho messo l'Axalt del Genoa, l'Axalt che ha spinto molto sulla sua corsia, ha vinto il duello con Jordan Lukaku e al 91esimo ha segnato il gol del 2-1 che ha permesso al Grifone di vincere contro la Lazio sul suo campo. Come altro sterno di centrocampo invece ho messo Chiesa della Fiorentina, anche lui un'ottima partita nella vittoria del Viola contro il Bologna, che ha segnato il gol del 2-1 che ha permesso alla squadra di espugnare il Dallara. Dopo come due interni di centrocampo ho messo due giocatori della Juve, Chedira e Pjanic, entrambi hanno fatto gol nella vittoria della Juve contro il Sassuolo. Il primo una doppietta, in secondo invece un solo gol, però comunque si è mosso bene, ha lavorato bene con la palla, quindi niente da dire per lui. E passiamo infine all'attacco. In attacco ho messo come primo esterno Suso, Suso il migliore in campo del Milan nel pareggio tra Milan e Udinese, ha segnato un bellissimo gol, non ha permesso ai rossoneri di vincere, però comunque ha giocato un'ottima partita segnando un gol molto bello. Dopo come secondo attaccante ho messo Mertens, Mertens che ha segnato anche domenica sera contro il Benevento, ormai è tornato il Mertens che conosciamo, un gol molto bello di pallonetto. E infine come terzo attaccante non potevo che mettere Gonzalo Higuain, Higuain autore di una tripletta nella vittoria della Juve contro il Sassuolo, tre gol uno più bello dell'altro, uno con un diagonale che è terminato all'angolino che non ha lasciato scampo consigli, l'altro dove ha raccolto un lancio di Marchisi, ha superato lo stesso portiere per poi depositare in rete, dopo uno scavetto su assist di Bernardeschi. Higuain anche lui si è ripreso, sta molto bene fisicamente e mentalmente, e adesso saranno cazzi amare veramente per tutti. Va bene ragazzi, questa era la top 11 della ventitresima giornata di Serie A, fatemi sapere come la pensate, che giocatori avreste messo voi, io come al solito mi invito a iscrivervi al canale YouTube, a iscrivervi alla pagina Facebook, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace, a passare per i vari canali di YouTube Football Project, trovate tutto in descrizione, detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!